Ciao ragazzi, video velocissimo, ho deciso di pubblicarvelo sul canale per avvisarvi che questa sera non sarò più online su Splatoon 2 dalle 18.30 alle 19.30 ma sarò online per giocare con voi dalle 20 alle 21 e giocheremo delle partite private dato che recentemente hanno deciso di aggiungere una nuova modalità di gioco su Splatoon 2 che andremo a vedere insieme proprio questa sera quindi mi raccomando ragazzi vi aspetto online dalle 20 alle 21 su Splatoon 2